Bassano, prime sanzioni nel fine settimana con nuovi importi maggiorati per sei violazioni al regolamento di polizia urbana ad altrettanti soggetti che urinavano al di fuori dei servizi igienici e precisamente in vicolo della torre, piazzetta, guadagnine, piazzale e terraglio. Per ognuno di loro la sanzione è stata di 250 euro. L'attività del comando di polizia locale nei giorni del weekend è proseguita con controlli a 60 veicoli con 63 persone identificate, 34 sanzioni per violazione al codice della strada, 35 accertamenti per guida in stato di ebrezza di cui uno positivo, una sanzione per violazione del regolamento acustico e una per rarato conferimento dei rifiuti.